Un racconto ricco di simboli, capace di far riflettere noi tutti sulla nostra fede, sia come singoli, sia come comunità ecclesiale. È questo per Papa Francesco l'episodio evangelico in cui Gesù, dopo aver mandato i discepoli verso l'altra riva del lago di Galilea, va incontro alla loro barca, camminando sulle acque agitate. L'invocazione di Pietro alla vista del Maestro, Signore comandami di venire verso di te, e il suo grido, Signore salvami, assomigliano, ha osservato il Pontefice, al nostro desiderio di sentire la vicinanza di Gesù, ma anche la paura e l'angoscia che accompagnano i momenti più duri della nostra vita. Il Signore, ha aggiunto Francesco, è la corda tesa a cui aggrapparsi per affrontare le acque ostili e turbolente che agitano la nostra esistenza. La fede nel Signore e nella Sua parola non ci apre un cammino dove tutto è facile e tranquillo, non ci sottrae alle tempeste della vita. La fede ci dà la sicurezza di una presenza, quella presenza di Gesù, una presenza che ci spinge a superare le bufere esistenziali, la certezza di una mano che ci afferra per aiutarci a affrontare difficoltà, indicandoci la strada anche quando è buio. La fede, insomma, non è una scapatoia dai problemi della vita, ma sostiene nel cammino e gli dà un senso. Quando non ci si aggrappa alla parola del Signore, ma per avere sicurezza, per avere più sicurezza, si consultano oroscopi e cartomanti, si comincia ad andare a fondo.